una donna era molto malata e chiedeva spesso di essere guarita i dottori per 12 anni hanno provato a guarirla ma non solo non c'erano riusciti avevano peggiorato le cose un giorno seppe che gesù stava passando proprio nella sua città così decise di andare in mezzo alla folla e cercare gesù dicendo se anche solo riesco a sfiorare il suo mantello forse sarò guarita perché lui è un grande e così fece si allungò per cercare di toccare quel mantello desiderando di essere guarita gesù in mezzo alla folla sentì che qualcosa era accaduto e chiese su discepoli chi mi ha toccato gli dissero ma guarda quanta gente c'è come fai a dire chi mi ha toccato ma lui capì e quella donna si avvicinò a gesù dicendo sono stata io e gesù le tese la mano e disse perché hai avuto fede si guarita e quella donna guarì davvero um un un Grazie a tutti.